Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Sempre in direzione Roma a causa del traffico intenso code sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Barberino di Mugello. Passiamo sulla 15 dove a causa dei lavori si segnalano rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipilì invece a causa dei lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Città di Firenze a causa dei lavori fino al 14 settembre via Romana rimarrà chiusa tra Piazza della Calza e via del Ronco. Previste variazioni anche al trasporto pubblico locale, il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!